A dove? Magari c'è la devozione Tutte le notte mi dico C'è un mario e c'è un gloria paura E tu vuoi? Ma che sei dalla prima verso diarla Ma che sei da la prima verso diarla? Le prese le due azioni E tu mi viene la mano Ma no E tu vuoi? Ma che sei della prima verso diarla Vieni la clients ora vieni sono un custodio rogambusano chi? un custodio rogambusano ecco a ieri sarnutigliato amore si un custodio rogambusano un custodio rogambusano ma forse sentono una parola e che per ieri sarnutigliati ma non è sparito un morto un uomo un uomo non è la mia pelle sto trovando tutta quanta guarda, guarda, guarda guarda, guarda guarda, guarda guarda, guarda guarda, guarda guarda, guarda scusate voi siete la moglie della morte? merci venite con me la è successo un fatto curioso ecco qua come si mi aiuta per mettere la davuta in la cella mortuaria e mi disse un rumore che venneva in da casa avevamo aperto e avevamo visto che la morte respirava ancora e l'avevamo fatta a durare un po' acido e chi l'ha aperto l'occhio? che avevamo fatto? l'avevamo usata e l'avevamo portata in da domenica ma sta vicino a fuoco perché la povera vecchia l'ha pigliata da poco fritta e prima parola caritta io ho tante due moglie di mandonetta e di chi d'incella che non sono morta e il direttore voleva telefonare qui stu ma la vecchia ha insistito io ho tante due moglie di mandonetta io ho tante due moglie di mandonetta e io mi sono venuto a chiamare ehi mi è accettato il momento quando mi fanno i schieristi ma faccio un prezzo scusate ma voi chiamate a numeri o a veterinari no no io ho un miglioro municipio tra sette dovrei stare lontane e dicette paralisi cardiaca ah beh allora si spiega è stata una finta morte e che è la prima volta che succedono fatte questo e perciò che noi viviamo sempre precauzione ma però signor che saluto il marito vostro e non ci vuoi niente di più per far morire a un come carnaval e avviate come 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 ma faccio un prezzo mi raccomando faccio un prezzo e due indizie e fammene se va cacciacchiura da e poi ho fatto un osso oramai tutto a monte e allora e allora che la fe ti ha a mettere a faticare ma come vado a fare volontari le guerre mi fanno prigionire mi arruolo le guardie a regge e si scioglie il cuore ma voglio si stimà trovo una vede con centomila lì le risulti domarì lì o di bat lì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.